Obri e il suo ragazzo Leo si sono persi durante un concerto. Lui è in uno di questi bagni. Puoi aiutare Obri a trovare il suo compagno? Leo è nel primo. Hanno tatuaggi uguali. Obri e Leo ritornano al concerto. All'improvviso Obri si accorge che uno dei musicisti non è reale. Chi? Il chitarrista non è reale. La sua chitarra non accorde. Dopo il concerto Obri va dietro le quinte per salutare i musicisti. Nel corridoio incontra tre fan donne. Una di loro è un lupo mannaro. Riesce a indovinare chi? Le prime due signore non hanno ombre. Pertanto sono vampiri. Quindi solo la terza signora può essere un lupo mannaro. Obri entra nello spogliatoio e trova la cantante Emma incosciente sul pavimento. Quindi chiama la polizia e l'ambulanza. Gli agenti interrogano tre sospettati. Il chitarrista dice Ho lasciato lo spogliatoio per 15 minuti per andare in bagno. Il batterista dice Emma mi ha chiesto di portarle un hamburger con patatine dalla cucina. Quando sono tornato la polizia era già lì. Il pianista dice Stavo facendo selfie con i miei fan nel corridoio. Chi sta mentendo? Il batterista. Le sue mani sono vuote. Quindi non ha portato hamburger. Dopo aver aiutato la polizia Obri e Leo lasciano la sala concerti per tornare a casa. Tre tassisti offrono loro un passaggio. Ma uno di loro è pericoloso. Sa indovinare chi? Il secondo autista ha una iena sul sedile posteriore della sua auto. La mattina seguente Obri va al parco per il suo allenamento quotidiano. Nota due persone che si rilassano su due panchine. Uno di loro è un cattivo. Riesce a indovinare chi? La signora sta semplicemente facendo un picnic. Ma guarda quell'uomo. La sua rivista è al contrario. Quindi probabilmente sta seguendo qualcuno. Beccato. Obri scatta due foto dello stagno. Riesci a trovare cinque differenze tra loro? Sentiti libero di fermare il video se hai bisogno di più tempo. Sei pronto a vedere le risposte? Eccole qui. Obri riceve un messaggio dalla sua amica Mary Jane. È caduta da un ponte oggi, ma è sopravvissuta. Come? Spider-Man l'ha salvata. Lei è Mary Jane, ricordi? Obri va a trovare Mary Jane nel suo condominio. Ma il guardiano locale lascerà entrare Obri solo se risalverà il suo indovinello. Divento più fine quanto più vengo utilizzato. Che cosa sono? Facilissimo. È il cervello. Mary Jane saluta Obri e le offre cupcakes e tè. Nella scatola ci sono quattro cupcakes. Uno di essi non è sicuro. Puoi indovinare quale? Il primo cupcake è un po' schiacciato, ma questo non significa che non sia commestibile. Il secondo sembra in ordine. Il quarto cupcake è leggermente bruciato, ma può essere comunque delizioso. Ma il terzo cupcake ha dei frammenti di vetro sulla cima. Decisamente non sicuro. Obri torna a casa e accende la tv. Notizia di ultima ora per tutti. Un criminale pericoloso è fuggito dal carcere. E ora si aggira nel quartiere di Obri. Improvvisamente suona il campanello. Obri controlla la sua telecamera e vede due persone in piedi sul suo portico. Entrambi dicono di essere corrieri. Ma uno di loro è il famoso criminale in fuga. Riesce a indovinare chi è? Il ragazzo a sinistra nasconde un'ascia in una delle gambe dei suoi pantaloni. Obri chiama la polizia, ma il criminale si accorge delle sue intenzioni e fugge dal giardino di casa. La polizia lo insegue e finisce nel parcheggio. Il criminale si nasconde in una delle cinque auto. Puoi trovarlo? Queste quattro auto sembrano vuote e non presentano segni di effrazione. Nel frattempo qualcuno si sta muovendo sul sedile posteriore della quinta auto. Beccato! Obri sta tornando a casa dalla stazione di polizia e vede questa scena. Uno di loro sta mentendo. Puoi indovinare chi? Il cacciatore di vampiri sta mentendo. Questo ragazzo non è un vero vampiro. Si è spaventato e gli sono diventate rosse le guance. Inoltre è un'ombra proprio come gli umani. Obri continua a camminare e incontra tre vicini che discutono su una bicicletta. Di chi è la bicicletta? La bicicletta appartiene al ragazzo con il cappello rosso. Gli altri indossano caschi ma il suo casco è sulla bicicletta. Il giorno seguente Obri va al supermercato. Prende del cibo e va alla cassa per pagare. Oh no! Il suo portacarte è sparito! Obri interroga tre persone vicine. Ethan dice che stava parlando al telefono e che non ha rubato nulla. Mia dice che non ha toccato le cose di Obri. Aveva le mani piene dei suoi stessi acquisti. E la cassiera dice che non ha notato nessun portacarte. Obri sa con certezza chi è il ladro. E tu? Da un'occhiata agli acquisti di Mia. Ha nascosto il portacarte di Obri dentro il cavolo riccio. Obri entra nel locale diner per pranzare. Ma questo non è un ristorante noioso come gli altri. Uno di questi due clienti è una ex sirena. Riesce a indovinare chi? Da un'occhiata più da vicino alla seconda signora. Ha dei graffi sulle ginocchia. Questo perché ha imparato a camminare solo di recente. Obri prende posto. E nota due coppie dall'aspetto innocente. Una di esse proviene da un altro pianeta. Riesce a capire quale? Da un'occhiata al primo tavolo. Quel ragazzo mette stuzzicadenti nella pasta come fossero sale o pepe. È molto improbabile che sia umano. La mattina seguente Obri entra nel suo ufficio. Oh no! Qualcuno ha forzato la sua scrivania e ha rubato il suo laptop. Ieri l'aveva chiuso nel cassetto. Obri chiama i vigilanti e loro interrogano quattro sospettati. La donna delle pulizie dice «Sono entrata nell'ufficio di Obri solo una volta per portare via i rifiuti presto la mattina. Non ho toccato la sua scrivania». Il designer dice «Ieri sono uscito prima di Obri, quindi non ho visto niente». Il responsabile dell'ufficio dice «Sono stato il primo ad arrivare oggi, ma ho passato tutta la mattina nella mia stanza a lavorare su un progetto urgente». E il responsabile contabile dice «Stavo facendo una riunione d'affari nella sala conferenze tutta la mattina». «Chi sta mentendo?». «La donna delle pulizie». Guarda il cestino di Obri. La signora non ha buttato la spazzatura, quindi la sua storia è falsa. Obri e Leo vanno a fare una passeggiata sulla spiaggia, ma qualcosa non va qui. Riesce a indovinare cosa? «Nessuna onda». «Obri e Leo continuano a camminare e si perdono in un enorme labirinto. Puoi aiutarli a fuggire?». «Oh, no». «Questo è l'unico modo per uscire». Improvvisamente i ragazzi vedono un animale curioso. Ha i piedi, ma non ha le gambe. Di quale animale si tratta? È una lumaca. È una lumaca. Il piede della lumaca è un muscolo che le permette di muoversi. Obri e Leo decidono di esplorare la casa infestata locale. Entrano in un corridoio inquietante e la porta si chiude a scatto. I ragazzi vagano per la casa e trovano un'altra porta con un lucchetto a combinazione. Devono scoprire il codice a cinque cifre per aprirla. Puoi aiutare i ragazzi a scoprire il codice? «Dà un'occhiata a queste eleganti rune sul muro. È un indizio. Sono solo cifre e riflesse. Il codice è 13947». «Yes!» I ragazzi aprono la porta. Svengono perché la stanza successiva è piena di gas soporifero. Dopo un po' si svegliano in un semi interrato e vedono un disegno del pavimento. Improvvisamente una voce inquietante dice «Mancano due lettere qui». Indovinate quali sono e vi libererò. Se non lo farete, rimarrete qui per sempre. Puoi aiutare i ragazzi? Le lettere mancanti sono N e N. I ragazzi aprono la porta successiva e vedono un gruppo di farfalle volare nell'aria. Puoi contare il numero esatto di farfalle verdi? Sette. Ora riesci a contare il numero di farfalle rosa? La risposta corretta è 9. Finalmente i ragazzi escono dalla casa infestata. Scattano due foto per i loro social media. Riesci a trovare cinque differenze tra di loro? Pronto a vedere le differenze? Eccole qui. La casa infestata ha un labirinto nel giardino. Puoi aiutare i ragazzi a uscire? Dovrebbero sicuramente scegliere la prima strada. La casa infestata ha un labirinto nel giardino. La casa infestata ha un labirinto nel giardino. La casa infestata ha un labirinto nel giardino. Grazie.